bentornati a tutti signore e signori sul canale di dantes hardware ancora con alimentatori perché un mio follower il signor i'm free ship di twitch mi ha mandato due psv da provare uno che aveva qualche problema secondo lui sugli harddisk e questo alimentatore per server della delta che alimentava un server apple allora sono riuscito a trovare un pin out e a farlo accendere come vedete ho collegato le tre principali la massa e ci sono due pin da ponticellara massa che fanno il ps u kill e il ps u on ponticellati quelli dovrebbe accendersi in teoria loro dicono che è rotto vediamo se va io non metterò a misurare anche le real minori potremmo farlo quindi che reali minori intendo comunque la più 3,3 usb che questo ha la 5 usb e questo che addirittura ha anche ls cl e quindi dei bit di controllo che probabilmente i server usano ma andiamo a vedere se si accende ovviamente ho fatto con dei cavi di alimentatore vecchio dei ponticelli vediamo un po' wow tensioni sono un pochino particolari ma pare accendersi abbiamo 12,6 volte sulla 12 volte 3,74 volte sulla 3,3 e 5,5 sulla 5 volte lui dichiara per l'esattezza vediamo addirittura 34 ampere sulla meno 12 volte no che cazzo sto dicendo scusate 34 ampere sulla 5 volte e 25 ampere sulla 12 volte quindi 250 25 200 sono 300 ampere sulla 12 volte 300 ampere sulla 12 volte che sono 300 watt sulla 12 volte vediamo se li regge ora ora vi chiedo scusate se la mia voce va e viene oggi sono con questa camerina un po' scusate perché la batteria della canon è andata allora intanto andiamo a vedere il ripple 5 millivolt per divisione ripple inesistente diamogli un piccolo carico di 75 watt le tensioni scendono subito un pochino il ripple non aumenta quindi facciamo 7 14 21 siamo a 240 watt il massimo carico 287 watt ragazzi il ripple sulla 12 volte è di con dei picchi di 12 millivolt più o meno 12 millivolt ottimo veramente ottimo se alimentiamo anche le rai minori andiamo a vedere il ripple sui rai minori vediamo che sulla 5 volte andando a caricarle abbiamo circa 15 millivolt di ripple e sulla 3,3 abbiamo un ripple a corpo pieno di circa 5 millivolt con degli spike che si protraggono per 25 millivolt circa forma d'onda triangolare per la 3,3 forma d'onda sempre triangolare con una modulazione un po' diversa per la 5 volt e forma d'onda inesistente per la 12 volte ovviamente beh signori non mi sembra tanto rotto questo alimentatore sinceramente anche perché stiamo erogando la bellezza di 325 watt totali le tensioni ci sono se noi aggiungessimo altro vattaggio non so fino a quanto si potrebbe spingere oltre questo psu aggiungiamo altri 50 watt 400 watt e passa la 12 volte non si muove lui regge no si è spento è andato in protezione e noi togliamo 50 watt comunque un alimentatore come si deve comunque 3,07 volte per la 3,3 480 per la 4 per la 5 volte è un po' fuori la specifica della 3,3 però siamo anche a oltre 70 watt di carico oltre il massimo se noi togliamo il sovraccarico comunque ritorniamo 322 watt siamo ancora in sovraccarico ecco 276 watt ecco che le tensioni tornano perfettamente nella norma come vedete se noi andiamo con altri 50 watt arrivano a 327 watt comunque 3,13 per un alimentatore che ha i suoi anni questo è un ottimo alimentatore da trasformare in alimentatore da banco perché si regge tranquillamente 300 watt da 12 volte il ripple signori questo è il ripple della 12 volte io ve lo faccio vedere bene guardate il ripple della 12 volte signori io sono a 5 millivolt per divisione il ripple ha degli spike ad altissime frequenze di 15 millivolt che si vedono solamente andando a lavorare a 200 kHz altrimenti è un trasformatore questo alimentatore guardate non c'è una variazione dell'attenzione ad alta a bassa frequenza questo alimentatore è una batteria delta e delta signori adesso passiamo al secondo poi apriamo entrambi come possiamo vedere i'm free sheep mi scrive gentilmente patrick questo ali è stato la causa del male di alcuni dischi per fortuna ho intuito fosse sua la colpa e non degli hard disk e dopo ovviamente ne scrive fallo esplodere ps controlla l'insule non so che molex ok va bene in free sheep ci pensiamo noi tranquillo alimentatore che ci dichiara 15 ampere sulla 12 volte che sono circa 120 180 watt quando lui dice max 420 420 watt massimi va bene lc power comunque non dovrebbe essere malvagio ma dentro scrutandolo già vedo che ha un pfc passivo quindi non sarà sicuramente il top player per quanto riguarda gli alimentatori vedremo se riusciremo a fare qualcosa di bello accendendolo sul bottone ha fatto un rumoraccio brutto ho paura anche del no c'è qualcosa di 56 watt no me sa che lui qua scoperto l'arcano molti di questi hanno alcuni fili tipo la meno 12 volte vari invertiti quindi invertendoli si accende tutto allora possiamo vedere ora in free sheep tu dici che ti fotte gli hard disk ma perché ma quando mai fa solo 3,45 volte sulla 3,3 e solo 5 25 sulla cinque volte già questi qui e non sinonimo robini fino a dire io ti fotte ogni cosa riprobanti 12 volt e vabbè 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 davanti contro l' testerico di operazione in opera d'arte vaί vabbè 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 vediamo quanto è il carico è zero non veramente c'è a un ripol al minimo di 5 10 15 20 25 millivolt gli diamo 75 watt minchia io così sono a 20 millivolt per divisione e con 75 watt un ripple di 5 20 40 60 60 70 70 millivolt diamo e la tensione è già scesa a 11 6 diamo un posta la 5 volte perché un gruppo regulated e eccolo che sale a 12 1 e ripple si abbassa perché è un gruppo che regolete del cazzo l'altra piccola 3 non ha senso quindi già così si è abbassato il ripple di molto allora abbiamo detto 180 watt e quindi noi andiamo a 7 14 e 75 siamo addirittura a 200 watt e guardate qua sono 251 watt 11 4 siamo al limite e lui fa un tranquillissimo ripple di 20 40 60 80 100 110 millivolt bello bello davvero ragazzi molto bello allora ripple sulla 5 volt è abbastanza basso siamo intorno ai 20 millivolt sulla 3,3 assente caricando la 3,3 uguale vabbè i ripple sulle ray minori ci sono diciamo che questo qui il comportamento base ce l'ha ce l'ha non è malvagio c'è di peggio siamo al limite se io togliessi 75 watt ne caricassi 50 stiamo sempre a un 14 con un ripple un po minore ma vabbè non fa niente e adesso andiamo a vedere quanto regge colui ripple sta per schioppare ragazzi sta per esplodere il ripple è andato a livelli devastanti puzza di bruciato la morì puzza di bruciato la morì il ripple è arrivato a livelli devastanti me sto lo studio che rumoraccio che fa madonna che rumoraccio che fa io non mi avvicino raga puzza la morì qui qui schioppa prende fuoco ogni cosa la 12 volta è 10 8 il ripple ho paura l'avvicinarmi per muovere la lancetta mannaggia miseria il ripple è a 100 mille il ripple è a 600 mille volte 600 mille volte il ripple oddio paura ho paura che mi esplode il mondo sta facendo un rumoraccio che non ve lo immaginate il ripple è tornato a volere normali non so perché non puzza più ma noi non ci accontentiamo gli diamo altri 50 watt si è spento no ci ho sperato eh ah è proprio no non è che si è spento è morto non è esploso è morto così senza esplodere ma davvero ma sei serio si si ragazzi ha puzzato e bruciato la morì ma non ci ha dato quella scintilla che aspettavamo l'altro l'assorbimento da spento è di 2 watt l'abbiamo anche forzato è comunque abbiamo gonfiato 350 watt quando doveva reggere 180 quindi poverino dai c'è di peggio ho paura a toccarlo che prendo la scossa mannaggia la prima occhiata la diamo al lc power che ha morto con disonore allora un filtraggio degno di nota sul ricettacolo con tanto di bobina e ferrite che poi si perde miseramente sul pcb dove non c'è neanche un minimo di bobina nulla il fusibile non è saltato ma i pin dei transistor e un diodo sono abbastanza cotti probabilmente sono bruciati quelli perché sicuramente il trafo è andato in saturazione condensatori sono misto fra taiwanesi e cinesi di alcune marche che conosco a malapena il classico gruppo regolete ed economico non schifosissimo ma abbastanza economico sicuramente meglio di quelli provati ieri ma comunque ecco a un doppio circuiteria di protezione niente c'è poco da fare una cineseria non troppo cineseria e ovviamente il ponte di diodi con i diodi molto sottodimensionati poco da dire ma andiamo a vedere come è fatto il cazzo di delta che quello mi interessa di più vederlo dentro sinceramente raga sapete che io mi emoziono per poche cose però stavolta io una roba del genere l'avevo mai vista in vita mia con alimentatore mi sono emozionato a vedere alimentatore desto genere guardate che lavoro questa raga è un'opera d'arte la corrente entrava qui eccola c'è una scheda di controllo addirittura che gestisce il controller della corrente va qua qui ci abbiamo la fase questa è tutta la parte del primario un condensatore da 470 micro farad che è grosso quanto la batteria del mio abitatore il pfc attivo le bobine di filtraggio i transistor che sono fatti per reggere non so quanti ampere sinceramente non ne ho idea resistenze penso di non lo so non ho idea una valangata di roba a schiedere tutti i tipi un filtraggio assoluto condensatori tutti nippon chemicon e nicicon non ce n'è uno diverso le tre rail le tre rail divise ognuna con un suo controller c'è la 3,3 la 5 volte e la 12 volte tutte e tre divise guardate che lavoro guardate i condensatori quanto sono grossi per ogni per ogni linea rail il trasformatore primario gigante non so questo che sono dipenso non so se è dello switching dovrei andarmi a vedere il pcb ma questo ragazzi è un vi giuro questo è un'opera d'arte l'alimentatore cioè da piacere guardarlo così da veramente piacere guardarlo c'è questa scheda totalmente elettronica con dei controller e anche qua non saprei tutta sta roba quello che fa dove andare a metterci a studiarci è fantastico guardate di qua quanto sono grossi anche sti transistor qua penso siano dei doppi di o di non dei transistor sinceramente però magari se se ci riguarda il video sicuramente mi saprà dire meglio io a un occhio così veloce non ho parole cioè è una cosa bellissima vedere una roba simile è emozionante guardate guardate che opera d'arte sembra un amplificatore di una macchia questa signora un'opera d'arte poi fra l'altro aveva aveva questo dissipatore qua sopra qui c'era questo era messo così che teniva tutti i piedi collegati e dissipati ragazzi veramente sto delta un'opera d'arte dei trimmer per la regolazione probabilmente per la regolazione di fino delle tensioni non saprei tutto quello che può fare in aggeggio del genere adesso mi spiego perché a 300 350 watt 400 non aveva minimo dei ripple sulla 12 volt una cazzo batteria porca miseria io te prometto I'm free ship che desto coso io ce fo' un quadretto e lo appendo sul muro questo qui è anche uno spreco usarlo se non ho un'opera d'arte del genere io ci devo fare un quadretto togliergli tutti questi dissipatori tirarlo fuori prendeste due schede ficcare dentro un qualcosa e appendere al muro perché questo di qui per me è un quadro lo metto vicino a goku ti giuro lo metto vicino a goku perché deve stare vicino a goku ragazzi se questo video abbastanza semplice ma particolare vi è piaciuto lasciate un like condividete iscrivetevi al canale ricordatevi il nostro gruppo telegram il gruppo su facebook il canale delle offerte che ancora è piccolo ma stiamo cercando di portare sempre migliori offerte per voi e questo è tutto la dante hardware ciao e buona giornata